Partiti in questo momento i cavalli della settima. Leggero controtempo, Ortos esce saltando Maia Desnuda, ma i due sono comunque a contatto. Davanti c'è incertezza tra chi debba fare l'andatura all'esterno. Alley for Revenge alla fine prende la leadership, si trascina in seconda posizione la Ives, poi in terza c'è Roman Spectrum in quarta, all'interno Maia Desnuda, poi ancora elettronica, Cuore Rosso ed Ortos che chiudono il gruppo. L'andatura non è esagerata, quella è imbastita in avanti da Alley for Revenge che è la favorita, cerca di gestire i parziali nei confronti la Ives. In terza posizione c'è Roman Spectrum, poi praticamente una scollatura con Maia Desnuda che insegue a cinque lunghezze da questi primi tre, insieme poi ad elettronica, Cuore Rosso ed Ortos. Cavalli che adesso sono a tre quarti della curva con Alley for Revenge in vantaggio, messa sotto pressione all'interno dalla Ives e all'esterno da Roman Spectrum. Si avvicina anche Ortos, c'è Maia Desnuda lì a contatto, poi Cuore Rosso che cerca lo steccato opposto, elettronica che in questa fase non guadagna. Alley for Revenge è ancora in vantaggio, è attaccato al centro della pista da Roman Spectrum, più all'interno c'è la Ives, poi ancora Ortos per corsia interna e scatta a questo punto. Roman Spectrum che si getta all'inseguimento di la Ives, la quale è in vantaggio, parte anche Cuore Rosso, all'interno c'è Ortos, Roman Spectrum contro la Ives. Questo è il tema della corsa, si aggiunge anche Maia Desnuda, siamo a cento dal palo, Roman Spectrum che dall'esterno alla fine emerge nei confronti della Ives e Cuore Rosso. Vince dunque Roman Spectrum a rientro, Nicola Pinna in sella, il training è quello di Gianluca Verricelli, colori quelli di Faiella, Alessandra, la quota al totalizzatore di 7,65. Delusione per la favorita Alley for Revenge, ma Roman Spectrum ha fatto valere i motivi migliori, quelli della scorsa primavera, sebbene al rientro. Chiaramente bisogna attendere l'ufficializzazione, ma c'è una incollatura abbondante nei confronti della Ives, per il terzo poi Cuore Rosso dall'esterno. È tutto per la settima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.